7 agosto Cambiate il vostro modo di pensare Romani 12.2 Un nuovo atteggiamento Affinché le cose cambino in meglio, devi modificare il tuo modo di pensare. Ecco un esempio. A. Pensa alle deviazioni proposte per le strade senza uscita. I vincenti non si limitano ad affrontare le avversità, le accettano sapendo che porteranno a un successo futuro. B. Non ascoltare le critiche, piuttosto concentrati per fare del tuo meglio. Chiunque vuole costruire qualcosa di utile deve imporsi su persone negative e pessimiste. C. Quando hai paura, glorifica il Signore fino a che la tua fede non sarà rafforzata. Potrebbe richiedere tempo ma, così, la lode e il ringraziamento non verranno meno e ti daranno la forza di proseguire. D. Quando cadi, rifletti sulla lezione e ricorda le volte che hai avuto successo. Sradica i dubbi e le perplessità sulla tua persona e sostituiscili con quanto la parola di Dio ti suggerisce. E. Quando stai per affrontare la battaglia, pensati vincente per mezzo della forza di Dio, con Lui. Ogni cosa è possibile. Matteo 19. 26. F. Piuttosto che recriminare sul passato e preoccuparti del futuro, concentrati sul presente, è lì che la tua influenza è maggiore. Ricorda la promessa del Signore. Duri quanto i tuoi giorni e la tua forza, Deuteronomio 33-25. G. Piuttosto che lamentarti, prodigati nella ricerca e vedrai che le soluzioni arriveranno. H. Quando qualcosa ti distrai, respira profondamente, fatti una passeggiata e schiarisciti le idee, pensa a ciò che puoi controllare e sottometti il resto a Dio. I. Nei momenti in cui ti senti solo, pensa alle persone che ti stanno aiutando, che ti amano e incoraggiano. J. Quando ti senti affaticato, prendi una pausa e riposati, ma non arrenderti mai. Concludi per il meglio ciò che fai. K. Allorché avverti la pressione e senti gli occhi puntati su di te, sorridi e divertiti. Si vive una volta sola. La vita è breve, perciò cogli l'attimo. Scrivici su WhatsApp per ricevere le meditazioni giornaliere ed altro.